Domenico è una partita che in molti chiamano derby, altri invece non sono d'accordo, è comunque una gara diversa dalle altre? Ma una gara diversa dalle altre sicuramente, già lo si sta vivendo in città, c'è tanta euforia. Da parte nostra sarà una partita come le altre, fare sempre tre punti, però chiamala derby, chiamala se cittadina, qualcosa in più ci sarà sempre. Affronterete una squadra come il Cittadino Messina che in casa ha perso solamente una volta con il Ribera? Tu tra l'altro sostituirai Chiavo e avrai clienti difficili come Saraniti e Tiscione, quali le maggiori insidie? Lo sappiamo, loro sono una buona squadra, hanno cambiato pure gente dietro, si sono rafforzati molto. C'è da fare un grande sacrificio tutti domenica e cercare di portare i punti a casa. Loro soprattutto davanti hanno gente interessante da tenere d'occhio. In ottica promozione che valore ha questa partita? Ha un valore sempre di tre punti alla fine, ancora mancano tante partite, c'è solamente da guardare, noi dobbiamo perdere la testa, continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi alla fine guarderemo pure le altre partite, ricordiamoci che il Cosenza va a giocare a Ribera, sicuramente è un campo difficile.